Sabato 18 maggio il nuovo arcivescovo metropolita di Potenza Morlucano Marsiconuovo Monsignor Davide Carbonaro farà il suo arrivo a Potenza. Tre i momenti principali della giornata alle ore 12 nella cattedrale di San Gerardo un incontro con il clero lucano, alle 16 nel parco Baden Powell dove sono previsti circa 1500 ospiti e alle 17 nella chiesa di Don Bosco dove il nuovo vescovo celebrerà la prima messa. Per l'occasione il prefetto di Potenza ha convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tavolo al quale hanno partecipato le istituzioni comunali, i vertici provinciali delle forze di polizia e i rappresentanti della cura arcivescovile di Potenza. Metteremo in campo un dispositivo che ovviamente fa anzitutto affidamento sugli volontari e sugli uomini che la diocesi ci ha rappresentato all'interno del piano di sicurezza che oggi valutiamo. Rispetto a questo ovviamente oggi valutiamo tanto i profili di security in senso stretto quanto i profili di safety, cioè quei profili rispetto alle misure che debbono garantire anche la sicurezza fisica delle persone stesse, e quindi la presenza di ambulanze, di dispositivi medici che vengono organizzati e strutturati tenendo conto del quadro massimo complessivo delle presenze degli ospiti per vista.